Ciao amici Nerazzurri, bentrovati a una nuova edizione del TG Flash Internews. Archiviata un'altra sosta per l'Inter è il momento di tornare in campo. Si riparte dalla trasferta di Torino per lo scontro diretto contro la Juventus di domenica alle 20.45. Nel giorno di antivigilia Simone Inzaghi ritrova tutti Nerazzurri di rientro dalle nazionali, con Sanchez ultimo arrivato a Milano. Il tecnico piacentino contro i bianconeri non rischia e, infortuni a parte, schiererà con ogni probabilità la formazione titolare. Tra i pali Sommer, difesa obbligata con De Vrij al centro, affiancato da Darmian e Acerbi. A centrocampo, Cialanoglu è pronto a partire dal primo minuto, insieme a Barella, reduce da una buona prova con gli azzurri e Mkhitaryan, rimasto sempre da piano gentile. Sulle fasce, i favoriti Dunfrista a destra e Di Marco a sinistra. In attacco ci si affida alla coppia Lautaro Martinez-Turam, da valutare Quadrado, che ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Intanto si continua a parlare di rinnovi e l'agente di Lautaro Martinez si è mostrato ottimista sulla possibilità di trovare un accordo con la dirigenza Nerazzurra per il prolungamento del capitano. Raffaella Pimenta ha invece parlato di Mkhitaryan, dichiarando che non dovrebbe mancare molto e che il giocatore è pronto a rinnovare. Di tutto questo parleremo come sempre nell'appuntamento di oggi alle 18 con Interchat, sui canali YouTube, Facebook e Twitch di internews.it. Non perdetevi poi l'intervista esclusiva a Stefano Sorrentino che uscirà nel pomeriggio sul nostro sito. A dopo! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nero-azzurre, internews.it è quello che fa per te.